Aggiornamento di Calciomercato Inter in questo nuovo episodio in cui rispondiamo alla domanda che tutti quanti praticamente nel mondo Inter si stanno e ci stanno facendo. Che cosa succede se l'Inter non vende nemmeno un big entro il 30 giugno? Questa data ormai famosissima, uno scenario che tra l'altro non è neanche così lontano dalla realtà perché come vedremo tra poco alcune trattative, anche quelle minori che sembravano veramente cosa fatta, in realtà non sono ancora così vicine alla chiusura o comunque non tutte, oltre alle big chiaramente che già conosciamo. Ne parliamo tra pochissimo, prima però vi invito a scaricare l'app One Football, l'app One Football perfetta per seguire tutte le notizie sul calcio, notizie principali sull'europeo, sul mercato ovviamente, trovate poi la sezione dedicata alla nazionale italiana, trovate la sezione dedicata alle news sull'Inter, c'è poi la parte relativa alle partite con tutti i risultati in tempo reale, le classifiche e le statistiche sui match dell'europeo e non solo, quindi avete in un'unica app tutto quello che vi serve per seguire il meglio del calcio e per questo vi lascio il link in descrizione per scaricare l'app One Football che ovviamente vi consiglio, completamente gratis, per cui link in descrizione, un click e scaricate l'app. Detto questo partiamo allora con questo episodio, che cosa succede allora se non viene venduto nemmeno un big entro questo famoso 30 giugno? Vi dico subito, non è un particolare problema, da quello che abbiamo potuto carpire, perché l'obiettivo primario dell'Inter in fin dei conti ad oggi non è fare l'incasso più alto possibile e soprattutto non è farlo subito e non è nemmeno fare la famosa grandissima plusvalenza in questo mese di giugno. Adesso ve lo spiego, andiamo anche nei dettagli, andiamo ad approfondire tutta la questione in queste ore per rispondere alla domanda che ci avete fatto in tanti, quindi ci siamo confrontati all'interno della redazione, ci siamo confrontati con vari colleghi in ambito sportivo, economico e non solo con colleghi giornalisti per avere un quadro completo della situazione. Qual è quindi la situazione? Allo stato attuale delle cose, ad oggi, 15 giugno, nel momento in cui stiamo registrando questo video, l'Inter non ha di fatto completato neanche una cessione, tantomeno quelle pesanti di cui si parla. Nainggolan, secondo le ultime indiscrizioni, è quello più vicino alla partenza, sembrerebbe molto vicino al Cagliari a titolo definitivo e anche se dovesse far registrare una minusvalenza nel bilancio non sarebbe un problema enorme per l'Inter che comunque otterrebbe un risparmio importante a livello di costo squadra e questo è l'aspetto più importante nella partenza di Nainggolan. Joao Mario, invece, allo Sporting si sta un po' complicando e ve lo abbiamo raccontato tappa dopo tappa con il nostro Raffaele Caruso e la nostra redazione, perché lo Sporting di fatto ha offerto meno di quello che era stato pattuito e quindi anche il calciatore e l'entourage che erano ormai orientati alla permanenza a titolo definitivo allo Sporting si sono di fatto arrabbiati e stanno valutando altre piste. Quindi anche questa è un'altra trattativa che si complica. Gli unici in partenza di fatto al momento sarebbero, quindi Colarov in scadenza di contratto non sarà rinnovato e poi c'è Ashley Young, bisogna capire se ci sono margini o meno per il rinnovo. E allora, abbiamo lavorato con tutto lo staff per carpire più informazioni possibili, andiamo a mettere in ordine quindi i vari tasselli che abbiamo raccolto. La prima notizia importante da cui partiamo e da cui bisogna partire con tutti i ragionamenti che dobbiamo fare sulla situazione è che l'Inter comunque fa filtrare una certa tranquillità in questo momento. Nel senso, bisognerà razionalizzare i costi, bisognerà ottenere un incasso importante da questo mercato, ma dall'Inter filtra al momento che non c'è urgenza di farlo entro il 30 giugno. E quindi non ci si sta affrettando a cercare acquirenti per i propri pezzi pregiati e soprattutto la posizione dell'Inter al momento non è cambiata. Ogni calciatore, soprattutto quelli più importanti e quelli più chiacchierati e appetiti, diciamo così, hanno un prezzo già stabilito e da quel prezzo l'Inter non si schioda. La posizione in questo momento è ferma ed è la stessa posizione che l'Inter di Suning ha avuto praticamente sempre in questi anni. Tant'è che al momento tra l'altro non abbiamo nemmeno conferme sul fatto che l'Inter stia aprendo alla possibilità di impostare degli scambi con delle parziali contropartite, cosa che al momento non ci risulta a meno che le squadre che propongono questi scambi non mettano sul piatto dei giocatori che già interessano all'Inter che però in realtà da quello che filtra vuole solo e soltanto incassare la parte cash più alta possibile in tutto il mercato. Questo è un punto di partenza importante. Andando poi più a fondo, senza fare i calcoli al millimetro che non è esercizio semplice, di sicuro, aggiungiamo altre notizie e considerazioni. L'Inter ha un problema di liquidità soprattutto, questa è la cosa che deve passare, di soldi in cassa, diciamo banalmente, che però da quello che filtra con il finanziamento di Octree, quindi ha potuto tamponare, soprattutto per quanto riguarda le scadenze immediate, quelle che devono essere coperte da regolamento entro il 30 giugno e quindi il problema di liquidità allo stato attuale delle cose sarebbe stato spostato più avanti, oltre questa data del 30 giugno. Infine, terzo punto da considerare, è vero che l'Inter, così come praticamente tutte le altre società, rischia di chiudere con un bilancio, con un passivo veramente pesante, però sarebbe un passivo che arriva in un anno in cui, lo sappiamo, le maglie del fair play finanziario sono decisamente più larghe. E quindi, per l'Inter, ma così come, ripeto, per altri club, soprattutto gli italiani, club italiani che non hanno l'obbligo di ricapitalizzare subito, ma lo possono fare spalmando negli anni, può essere, tra molte virgolette, va detto chiaramente, sto banalizzando, anche un'opportunità da un certo punto di vista, almeno quello che abbiamo capito, nel senso che ci sarebbe la possibilità di caricare su questo bilancio 20-21 un passivo pesante, poi si cercherà di portare in attivo, in maniera importante, il prossimo bilancio che partirà dal primo luglio, rimettendo in moto, da un lato, la macchina dei ricavi, dall'altro, chiaramente, la razionalizzazione dei costi, che resta un obiettivo da raggiungere. Quindi, di fatto, questo passaggio, non posso dirlo e assicurarlo con certezza, ma potrebbe, da un certo punto di vista, anche convenire a vendere a luglio, anziché a giugno, per l'Inter. Tant'è che, se ci facciamo caso, l'Inter, così come altre società italiane, che in altri anni avevano già, a questo punto del mercato, realizzato tante plus valenze importanti, quest'anno si stanno muovendo in maniera molto più cauta e non hanno fatto ancora operazioni così importanti, da questo punto di vista. E quindi può essere anche un'avvisaglia, un segnale importante di un mercato, questo dell'estate 2021, che può rappresentare un punto di rottura nello scambio di plus valenze, che abbiamo visto in questi anni, appesantire i bilanci e rimandare il problema di anno in anno. L'abbiamo visto anche nell'Inter, con diverse operazioni in questi anni. Però, ecco, dal punto di vista sportivo, chiaramente, iniziare il ritiro con un big, che poi magari parte in corso di ritiro, non è il meglio di sicuro, anche se dal punto di vista economico, potrebbe essere anche un'opportunità. Per concludere, vi faccio vedere un tweet che è arrivato poi da Fabrizio Biasin, giornalista, che di fatto chiude il cerchio dei ragionamenti e delle news che stavamo raccogliendo anche noi di Passione Inter. Andiamo su Twitter, Fabrizio Biasin, che scrive, rispetto a quello che si legge, l'Inter, per questioni di bilancio, deve realizzare le famose plus valenze... Allora, rispetto a quello che si legge, ovvero, quello che si legge in giro è l'Inter per questioni di bilancio deve realizzare le famose plus valenze entro il 30 giugno, Biasin dice la risposta è no, l'Inter non deve fare le plus valenze entro il 30 giugno. La proprietà ha chiesto alla dirigenza di portare 80 milioni entro la fine del mercato. Sembra un particolare di poco conto, ma non lo è. Questo è il tweet di Fabrizio Biasin ed il dettaglio, infatti, non è di poco conto, perché di fatto conferma il punto da cui siamo partiti anche noi nei ragionamenti e chiude, come vi dicevo, il cerchio. Per l'Inter, se anche non dovesse vendere un big entro il 30 giugno, cambia poco. Da qui, infatti, arriva la relativa tranquillità, diciamo, che c'è in questa fase nella dirigenza dell'Inter. Detto questo, l'obiettivo del mercato è chiaro e non cambia. Innanzitutto, diminuire il costo squadra. Questo è un obiettivo importantissimo. Si parla di circa il 15%, cosa che, come vi ho raccontato in più video e più dirette, può essere fatta non ad occhi chiusi, di sicuro, ma comunque in maniera non troppo sanguinosa. E poi l'altro obiettivo è anche quello di ottenere un attivo che, dalla Gazzetta dello Sport, che aveva parlato con Steven Zhang, si parlava di circa 70 milioni. Biasin parla di 80, la cifra più o meno, siamo intorno a quella cifra, ma un attivo di 80 milioni. E questo è un dettaglio importante non entro il 30 giugno, che invece appunto si presuppone l'addio di almeno un big, ma non entro il 30 giugno, ma entro la fine del mercato. Quindi, è una considerazione importante anche perché è vero che gireranno pochi soldi in questo mercato, però ci sono delle avvisaglie di grandi movimenti, con tanti club importanti che comunque potrebbero immettere nel mercato dei soldi importanti, con grandi scambi internazionali, che potrebbero quindi far circolare comunque dei soldi anche nelle fasi più avanzate del mercato. Per cui vediamo, con calma, al momento l'Inter non ha quindi questa urgenza immediata di avere l'attivo subito a giugno, ma dovrà averlo entro la fine del mercato. Detto di Nainggolan, detto di João Mario, gli indiziati alla cessione pesante rimangono soprattutto Achimi e Lautaro Martinez. Di sicuro, diciamo, le parole dell'agente Lautaro Martinez hanno messo in bilico la posizione dell'argentino, altrimenti, prima delle sue dichiarazioni, c'erano, secondo me, pochi dubbi sul fatto che l'indiziato principale fosse Achimi. Su Achimi, su Lautaro le offerte al momento non ci sono, neanche lontanamente vicine a quelle che si aspetta l'Inter. Su Achimi, il Chelsea fa sul serio e si parla anche di possibili scambi, però, dalle ultime notizie che abbiamo raccolto, il PSG, sembra che vada considerato sempre in posizione forte, tant'è che non hanno ancora nemmeno sciolto i dubbi sulla questione Florenzi che da contratto adesso tornerebbe ad essere di fatto della Roma. Quindi, l'Inter i prezzi li ha fatti e ad ora non fa alcuno sconto, soprattutto ora che la scadenza del 30 giugno, come detto, non è così tassativa per le esigenze di bilancio dell'Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se mi avete seguito fino a qui, lasciate un commento con l'emoji del sole, visto il caldo di questi giorni e l'estate rovente che ci aspetta anche dal punto di vista del mercato, massima fiducia in mister Simoninzaghi e nella dirigenza dell'Inter soprattutto, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci su Twitch dove siamo in diretta tutti i giorni, ovviamente ascoltate Passione Inter anche in podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music praticamente ovunque e vi ricordo anche che se volete sostenerci trovate il link per abbonarvi e il tasto abbonati con tutti i vantaggi previsti dai vari livelli di abbonamento e vi aspettiamo nel nostro club. iscrivetevi al canale